la nuova edizione di uomini e donne è pronta a tornare su canale 5 ecco cosa in serbo la rete per lo show più amato di mediaset manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione di uomini e donne il popolo del web stando ai commenti sta diventando piuttosto insofferenze a causa della pausa estiva mediaset nel tentativo di rimediare a tutto questo ha deciso a portare delle modifiche nel palinsesto autunnale e così maria de filippi tornerà in anticipo su canale 5 sono già emersi alcuni spoiler legati alle imminenti puntate pare che ci saranno delle modifiche importanti all'interno del regolamento inoltre la rete ha rilasciato anche alcuni dettagli sui volti che caratterizzeranno il dating show per ora sembrano esserci tutti gli elementi per una stagione scoppiettante uomini e donne tutte le novità della nuova edizione fan in delirio uomini e donne è uno dei programmi di punta di canale 5 tant'è che mediaset ha sempre investito tanto sullo show di maria de filippi alcuni dei protagonisti si sono trasformati in vere e proprie celebrità basta fare un giro sui social network per rendersi conto dell'enorme risonanza che la trasmissione anche a distanza di anni esercita sul pubblico la rete così ha deciso di anticipare la messa in onda della nuova stagione manca meno di un mese all'arrivo dei nuovi appuntamenti il primo è previsto per lunedì 9 settembre le prime registrazioni avverranno il 28 e il 29 agosto a partire da quel momento probabilmente sarà possibile avere anticipazioni più dettagliate è già stato annunciato che almeno all'inizio verrà dato spazio anche agli ex protagonisti dell'ultima edizione di temptation island non è la prima volta che accade una cosa del genere però gli spettatori sembrano apprezzare molto questo dettaglio si tratta di un modo aumentare gli ascolti e per alimentare le aspettative durante l'estate non si è fatto altro che parlare dei nuovi volti che saliranno sul trono c'è ancora un certo mistero sull'argomento tuttavia le indiscrezioni fanno riferimento a massimiliano varrese già noto al grande pubblico per la sua carriera di attore e per il suo ruolo al grande fratello e a carlo mancini famoso per aver vestito i panni di temptation island probabilmente ci saranno anche vecchi ritorni maria de filippi potrebbe decidere di concedere una seconda possibilità a ida platano che alla fine della scorsa edizione ha preferito non scegliere anche gemma galgani e barbara de santi saranno di nuovo pronte ad animare lo studio il format nel corso degli anni ha subito delle piccole modifiche lo scopo è rimasto sempre lo stesso però la produzione ha messo più volte mano sul regolamento quasi sicuramente anche per il 2024 2025 ci saranno delle novità